Museo Il Correggio, città di Correggio, Palazzo dei Principi. Ormai è quasi notte fonda, il pubblico, i visitatori, alcuni dei maestri, tanti maestri che sono venuti oggi per l'inaugurazione, oggi sabato 14 ottobre alle 16, per l'inaugurazione dell'evento Cari Maestre che voi potrete visitare qui al Museo Il Correggio fino al 26 di novembre, se ne sono andati, hanno lasciato le sale con ben oltre di due o tre ore la chiusura del museo e quindi ringraziamo le istituzioni. È stata un'inaugurazione straordinaria con tanti maestri, con tanti giornalisti, con tante situazioni, c'era la Sala degli Arazzi assolutamente gremita, cioè persone in piedi, persone in piedi. Abbiamo avuto maestri che sono arrivati dall'estero, che sono arrivati da regioni d'Italia, tanti appassionati d'arte, sono arrivati da ogni regione, è arrivato Adriano Corsi dall'archivio Lazzaro di Milano e quindi ci ha mandato un messaggio Carlo Suarez Sasso, avevamo qui Filippo Alinari, insomma veramente un'inaugurazione incredibile, incredibile non solo per l'Emilia ma per gli standard davvero italiani e non solo, sarei dire, europei. Una mostra, cari maestri, che raccoglie varie anime in nome del colore e del colore che diventa racconto. Ne abbiamo parlato all'inaugurazione con l'onorevole, con il sindaco, abbiamo tagliato il nastro e mentre parlavamo di questo, una mostra che è un omaggio, dove l'arte contemporanea italiana più autorevole sugli aspetti del colore, su un certo tipo di arte, si è riunita per fare un omaggio all'Emilia Romagna, a un suo figlio prediletto, che è Serafino Valla, con un catalogo di cui sono rimaste penso una trentina di copie, poco più, da collezione, numerato, e con un catalogo che in settimana sarà disponibile, vi daremo il link, sarà disponibile in inglese e sarà disponibile in oltre 30 paesi nel mondo, che potranno vedere così le persone che abitano in questi paesi, potranno vedere l'arte contemporanea italiana, potranno vedere cosa avviene al Museo del Correggio in Emilia e potranno conoscere l'opera, il racconto, la vita del maestro Serafino Valla. Siamo qui nella sala dedicata al maestro Serafino Valla, una decina di opere estremamente selezionate, per una mostra che abbiamo annunciato alla Galleria Lazzaro Bai Corsi, a Milano, in una mostra bellissima, a detta dello stesso di Adriano Corsi, una delle più belle, delle più visitate, con il giorno di Milano, oltre che ad altri mezzi di stampa, ma il giorno di Milano, che dà a quella mostra di Serafino Valla la prima pagina in arte, culture e spettacoli, veramente a livello nazionale. Quindi l'avevamo annunciato. Come avevamo annunciato altre mostre? Con Giuseppe Navalla, ora piano piano prepareremo la personale al Palazzo della Cultura, Pasquino Crupi, un vero e proprio museo d'arte contemporanea, con Dalì, con Bueno, con Sughi, con De Chirico, è una collezione bellissima, una collezione straordinaria del Palazzo della Cultura Pasquino Crupi a Reggio Calabria e una collezione che si arricchirà di un altro grande maestro che è l'Anna Franco, il direttore del museo, aspetta a braccia aperte. Infatti acquisirà il museo un'opera del maestro Serafino Valla, che sarà messa fra questi maestri che ho citato. Ci avviciniamo a celebrare, a ricordare un momento particolare, un anniversario particolare del maestro. Lo abbiamo fatto partendo da Milano con mezzi di informazioni importanti, come dicevo, la prima pagina in cultura e lo abbiamo fatto qui, con l'arte contemporanea, con i maestri, con un catalogo incredibile in italiano e un catalogo incredibile all'estero. E ora faremo una personale, una personale dove abbiamo fatto un Mediterraneo per celebrare i bronzi di Riace, dove hanno fatto la grande mostra di Shepard Ferry, Obey, attendono l'arte, il racconto, la vita diventata colore di Serafino Valla. E intanto qui in Emilia, Serafino Valla, che ha fatto tante mostre, sia da contemporaneo sia da storicizzato, l'uomo che se n'è andato in un giorno di sole, oggi l'arte contemporanea italiana lo ha abbracciato. Lo ha abbracciato con il cuore, ha riconosciuto la sua storia artistica, ha riconosciuto il suo valore e il suo percorso nella cultura italiana e internazionale dell'arte. Ho parlato con tanti maestri che erano commossi dalla mostra di Valla, dal catalogo, dal racconto, dalla storia. Tanti maestri, tutti maestri che già prima lo conoscevano, ma che qui in Emilia hanno verificato, hanno veramente toccato con mano la sua storia, il suo racconto, il suo pathos, la sua filosofia di vita e la sua poesia. Una mostra straordinaria, cari maestri, vi invito a venirla a vedere fino al 26 di novembre e poi state sintonizzati, l'abbiamo pubblicato sulle scelte di Puntelli, il canale social l'abbiamo pubblicato sul mio social, su profili d'artista trovate veramente tanto, su Serafino Valla, presto, presto parleremo di Reggio Calabria. Il mio ringraziamento va all'istituzione, a Francesca Manzini, che hanno veramente lavorato, sono andati ben oltre l'orario, ma d'altronde anche loro erano davvero, c'era un grande entusiasmo con tutti questi maestri, con tutto questo pubblico, con una mostra unica e irripetibile. Come è ripetibile quel catalogo che è andato venduto veramente già 170 copie, e quindi veramente straordinario, abbiamo già prenotazioni per quelle in inglese. Una mostra unica. Un ringraziamento è chi ha realizzato questa mostra con me, quindi Annalisa Puntelli-Sacchetti, Paolo Calcari, è stato davvero un lavoro fatto nell'equip del mio gruppo, del mio team, è stato un lavoro veramente di equip, un lavoro di team all'interno della mia squadra, ci siamo passati le informazioni, abbiamo lavorato, stiamo lavorando dal primo di febbraio per questa mostra. e nel nostro gruppo ha lavorato a strettissimo contatto con noi, con le istituzioni, davvero infaticabile, non solo per l'amore di figlia, ma per chi ha riconosciuto nella vita di Serafino Valla che la sorte ha voluto fosse suo padre, ha trovato quel senso, quell'amore, quel significato che le persone non danno oggi alla vita. Se volete confrontare con voi stessi, tirate giù un cappello, anzi, venitelo a vedere in questa sala, un uomo con il cappello calato sugli occhi, perché potrete rivedere voi, potrete scoprire tantissimo della vostra vita, e uscendo da qui, come mi hanno detto tanti maestri e anche due persone del pubblico, abbiamo capito cosa significa quello che lei ha detto parlando di consapevolezza nella vita. Valla lo ha avuto e lo ha condiviso questo dono con gli altri. Quindi davvero un grazie enorme a tutti coloro che ci hanno seguito, a chi ha collaborato. Il grazie più grande a Giuseppe Navalla, perché con noi l'ha costruita con tanto amore, pezzo per pezzo, e abbiamo fatto un lavoro di squadra, quasi di squadra sportiva, veramente, per l'amore, per la dedizione, per la focalizzazione verso un unico obiettivo. E ripeto, il suo non è l'amore di una figlia ad un padre, ma è l'amore di chi ha ricevuto significato da un lavoro incredibile, letterario e artistico, che ha fatto Serafino Valla. Grazie, professore. Sono io che ringrazio lei e tutto il suo staff per tutto l'impegno, così come mi associo ovviamente ai ringraziamenti allo staff del Museo Il Correggio, un museo così importante e prestigioso. Oggi abbiamo avuto appunto l'onore di avere anche ospite l'onorevole Malavasi, e oltre che il sindaco, ovviamente l'assessore Tesauri, che io ringrazio veramente di cuore, perché oggi è stata una giornata, un evento unico, veramente. Mio padre è vivo, io lo sento vivo, e il suo pensiero è vivo più che mai, perché rimane attuale, è sempre più attuale, visto anche tutto quello che sta succedendo nel mondo. Se ogni persona si facesse anche un esame di coscienza e meditasse su quello che ci accade attorno, probabilmente ci sarebbe un po' più di umanità. La meditazione e l'umanità serve per un futuro migliore, cosa che purtroppo al momento vediamo i risultati. Per cui io oggi ho vissuto tante emozioni, tantissime, soprattutto da parte della Manzini, della curatrice, perché mi ha fatto quasi commuovere la presentazione, ho fatto in modo di non piangere, però mi ha toccato profondamente sentire il ricordo che ha fatto nei confronti di suo padre, che ha conosciuto il mio e, guarda caso, ha acquistato opere. Per cui lei è cresciuta, vedendo da sempre, è cresciuta con le opere di mio padre. E quindi il caso ci ha fatto incontrare e, guarda caso, è il suo primo progetto da curatrice del museo. Per cui sono arrivata appunto a dire che il caso non esiste, c'è un significato, c'è un disegno maggiore e sono convinta che mio padre, come sempre, mi sta tracciando la strada. Mi sta, perché lui è ancora vivo e io lo sento vicino e certe cose stupende che accadono. Mi rendo conto che è lui che magari, cioè, sicuramente, dal luogo in cui è riesce a far accadere tutte queste meraviglie. Cari maestri, un progetto veramente stupendo. La partecipazione di così tanti maestri contemporanei e storicizzati mi ha riempito il cuore di gioia, ha avuto la possibilità di parlare con altri maestri contemporanei presenti, maestri importanti, con delle carriere veramente... Tra questi, Mauro Capitani. È stata l'occasione di incontrarlo, visto che con... praticamente con la fondazione Nuccia e Mauro Capitani aveva sostenuto la mostra che è stata fatta al Santuario della Verna, una mostra stupenda dove è stata esposta la Via Crucis. Io ho avuto oggi l'occasione di parlare con lui e ci siamo trovati in sintonia, in empatia, sotto tanti aspetti, artistici e non. Ho avuto modo di parlare anche con altri maestri importanti, Solimani, Santori, veramente tanti. Adesso, per carità, non ricordo tutti i nomi. Ed è stato bello perché è stata una festa, una festa in omaggio a mio padre. In un luogo veramente stupendo, la mostra è stata allestita in un modo perfetto si riesce a valorizzare l'essenza di ogni opera. Per cui io ringrazio di nuovo l'amministrazione, tutto lo staff del museo, ma soprattutto il curatore Gianmarco Puntelli con Anna Lisa, sua moglie, e tutto lo staff che collabora con lui. Grazie. Oramai è notte, però siamo felici, stanchi ma felici. Assolutamente sì. Tenete conto che questa inaugurazione è partita alle 16, durata circa, le persone non lasciavano le sale, il pubblico non lasciava le sale, i maestri erano qua, i giornalisti arrivavano anche all'ultimo momento. È stato veramente sono sette ore. È un'inaugurazione che è durata sette ore. Come ha detto Giuseppina Valla, è notte, è stata una festa. Ora è il momento di spegnere i riflettori sull'inaugurazione perché inizia la mostra. Quindi l'invito va a tutti voi, assolutamente, da domani fino al 26 novembre. Venite a vedere, cari maestri, una mostra allestita. Ci abbiamo lavorato con Anna Lisa Buntelli-Sacchetti, con Paolo Calcari, abbiamo fatto un lavorone, abbiamo raccontato Serafino Valla, l'arte contemporanea in Italia, il flusso dei colori. partiamo da Atos Faccincani, terminiamo con Guglielmo Spotorno e con Aligi Sassu, veramente una mostra incredibile, con Walter Lazzaro, con Luca Linari, per citare solo gli storicizzati, con Faggi, con Dall'Acqua, con Possenti, con Antonio Possenti, con Gianpaolo Talani, come dicevo, con Aligi Sassu, insomma una mostra veramente con i contemporanei incredibili, per provare l'emozione dell'arte contemporanea, la bellezza, per provare il senso del colore, la vibrazione del colore nella vostra vita. Cari maestri, dedicato all'Emilia Romagna, al maestro Serafino Valla, dopo sette ore, termina l'inaugurazione e buona mostra a tutti voi, da domani.